Ieri una riunione al Comune di Pescara per parlare di quello che è lo smog, in questo caso si è parlato anche di altri comuni che devono collaborare per un piano che possa garantire livelli accettabili a tutti. In questo caso come procede il Comune di Pescara? La riunione di ieri era innanzitutto finalizzata a stabilire un protocollo che a breve sarà approvato dagli organi dell'arte e del Comune per procedere a delle analisi sul territorio. In modo tale da avere un patrimonio di conoscenza adeguato a prevenire piuttosto che rincorrere i fenomeni. Si è affrontato anche il problema degli sforamenti. Per legge voi sapete che non possono essere superati i valori di emissione in atmosfera in una delle centraline del PM10 in misura superiore a 50 mg ogni metro cubo di aria. Se succede al 36esimo sforamento il Comune deve definire dei provvedimenti per abbattere immediatamente queste polveri sottili che sono dannose per la salute. Al momento non ci sono situazioni di pericolosità immediata perché il cattivo tempo che ha fatto nei primi 20 giorni di gennaio ha portato tanti altri danni però ha abbattuto il particolato nell'aria. Ci sono stati dei superamenti una volta che il tempo si è avvolto al bello però adesso di nuovo si sono abbattuti. Siamo a 11-12 sforamenti, siamo ancora lontani dalla soglia di intervento. Per quanto riguarda il traffico è chiaro che occorre un raccordo con i comuni con termini perché se qualcuno parte da spoltore poi non riesce a entrare a pescare è vero che si dà comunicazione però comunque questo può creare dei disagi.